Il ritiro di Arizzo prosegue tra allenamenti tecnici intensi, preparazione fisica e prove di schemi con e senza palla. I ragazzi, guidati al centro del campo da Mr. Rastelli, dopo aver posizionato dei paletti, hanno provato i movimenti per lanciare le punte o aprire varchi per gli inserimenti del rifinitore. Poi, tutti appena fuori dall'area di rigore col pallone tra i piedi. Il gioco consisteva nel tirare la palla sulla traversa. Chi non è riuscito, Craince Farias, pagherà la colazione al gruppo. A fine sessione abbiamo intervistato Marco Fossati, neocentrocampista Rosso Blu. Sentiamo le sue parole. Allora, impressioni assolutamente tutte positive, perché comunque sono arrivato in un gruppo dove c'è tantissimo entusiasmo. Detto questo non è facile perché vengono comunque da, veniamo, posso dire, da una retrocessione e quindi non era facile trovare un gruppo con così voglia di ripartire con questo entusiasmo. Però lo stiamo facendo e penso che sia la cosa più importante, perché se manca quello poi è difficile anche portare sul campo i risultati. È un gruppo che ha voglia di lavorare. Il mister sta gestendo, penso, benissimo il gruppo perché comunque è dotato di ottimi giocatori in tutti i ruoli. Non è facile, però lui sta riuscendo comunque a gestirci tutti in maniera ottimale e penso che ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. Ho scelto il progetto Cagliari perché l'ho trovato un progetto molto ambizioso e poi mi hanno dimostrato comunque voglia di lavorare, cioè voglia di lavorare insieme a me e io ho preso subito questa scelta perché comunque ho visto che da parte loro c'era voglia di ripartire alla grande. È una piazza sicuramente molto importante, storica, penso che sia la migliore in Serie B e quindi sono soddisfatti di essere qui e di luttare per l'obiettivo. Personalmente mi aspetto di dare un aiuto a questa squadra e poi l'obiettivo è quello di squadra, quello di tornare in Serie A e quindi speriamo di farlo subito quest'anno. Questi giorni già ho visto che i tifosi sono molto presenti e questo fa molto piacere anche perché penso che per vincere il campionato abbiamo bisogno di tutti e quindi speriamo che ci diano una grossa mano. Grazie a tutti.